Uno spirito di bassa bottega politica, assenza di senso di responsabilità nei confronti della città. Dure le parole del sindaco di Pescara Marco Alessandrini, che a poche ore dalla conclusione del Consiglio Comunale di ieri commenta la disfatta relativa all'approvazione del bilancio di previsione. Ritardo costato una perdita di 5 milioni di euro, già disponibili nelle casse del Comune, ma non utilizzabili a causa della mancata approvazione. La finanziaria ultima prevede premialità per le amministrazioni virtuose. Le amministrazioni virtuose sono quelle che approvano il bilancio entro il 31 gennaio. Questo significa sostanzialmente aumentare la capacità di spesa legandola alla cassa. È difficile, però significa che noi, che non siamo in anticipazione di tesoreria, avremmo potuto immediatamente impiegare queste risorse per procedere alla manutenzione della città. In cassa al Comune non c'era niente, c'era un anticipo di tesoreria di 24 milioni e mezzo. Noi abbiamo la cassa ampiamente attiva ed eravamo, così come siamo, nelle condizioni di poter trasformare questi spazi finanziari in aumento della capacità di spesa. Tutto questo è gravissimo, credo, e quindi siamo qui a denunciarlo affinché ciascuno possa farsi un'idea di quello che succede all'interno del Consiglio Comunale. A rispondere sono i rappresentanti del centrodestra che spiegano passo passo ogni motivazione alla radice della mancata approvazione. Da un lato accusano la maggioranza di essere stata vittima della lista Teodoro, che ha presentato ben 1700 emendamenti. E dall'altra di Sinistra Italiana, che ha perorato la causa del mercatino etnico, opera che costerà ai pescaresi 250 mila euro, che, secondo il centrodestra, sarebbero dovuti essere spesi per le criticità del territorio alla luce dei danni portati dal maltempo. Sono stati ostaggio della lista Teodoro fino a circa 4 ore alla scadenza della mezzanotte, quindi nessuna colpa si può addossare al centrodestra. Tutti gli interventi che col bilancio dovevano essere effettuati e col piano trenale dovevano andare a colpire ciò che riguardava la manutenzione, soprattutto delle scuole, la viabilità, e abbiamo cercato anche di puntare il dito su alcune opere che, a nostro giudizio, in questo momento possono essere messe da parte, proprio per affrontare un problema emergenziale. Siamo stati colpiti negli ultimi dieci anni da importanti eventi atmosferici e questo richiedeva, a nostro giudizio, un impegno straordinario che si poteva centrare con il bilancio, rimandando alla prossima annualità, quindi semplicemente di un anno, altre opere che potevano essere tranquillamente affrontate in un secondo momento.